La piccola imprenditoria padovana è ferma. Alcuni esempi? I 150 tassisti padovani lo stanno vivendo sulla loro pelle. Gli arrivi in stazione di turisti e di uomini d'affari sono poco sopra lo zero. Turisti non se ne vedono assolutamente, gli alberghi sono completamente vuoti. Non ci sono le persone per affari e neanche i turisti. Le chiamate al centralino dei taxi sono crollate dalla fine di febbraio con lo zero assoluto della sera di martedì grasso. I tassisti si sono autoridotti le ore di turno di lavoro da 8 a 6. Lavorano solo con chi deve raggiungere gli ospedali. Le perdite sono ingenti. Abbiamo fatto dei piccoli conti ma andiamo intorno all'80%. Abbiamo riscontrato un 5% medio di calo immediato e ovviamente vi porto l'esperienza personale di un collega che è di Vò e quindi in questo momento è a casa e la sua attività non può produrre. 518 risposte in 5 giorni di indagine lanciata dalla CNA. Gli artigiani padovani hanno una gran voglia di farsi sentire perché le perdite del fatturato sono al 34% con punte del 40% nel settore dei servizi. Il calo degli ordini è per quasi tutte le aziende superiore al meno 20%. I riflessi di questi picchi si trascineranno per un periodo al momento indefinibile. Un supporto economico, un supporto di ammortizzatori sociali non solo nella zona rossa ma quelli che sono stati eviduati per la cosiddetta zona rossa vengono estesi a tutto il Veneto, alle rimanenti zone gialli che vogliamo chiamarle in questo modo. Per cui cassa integrazione in deroga, blocco lo spostamento dell'IVA perché ci ricordiamo le scadenze che ci sono per le nostre aziende. Chiedere al governo che in questo periodo qui vengano bloccate tutti gli adempimenti e non spostati. Il blocco dei mutui, il blocco dei tassi moratori, questa è una cosa che assolutamente deve essere vista, fatta ma non spostata, bloccata e annullata per questo periodo.